Nuova parte di Polifemo dedicata all'USB che ha dichiarato uno sciopero di 32 ore a partire dalle ore 23 del 19 luglio alle ore 7 del 21 luglio presso gli stabilimenti Ilva è chiamato i lavoratori a Roma per presidiare sotto il Mise durante l'incontro del 20 luglio tra Marcegaglia Mittal e il governo con la presenza anche dei lavoratori di Alitalia oltre a delegazioni di altre aziende in crisi uniti nella voglia di fermare questo governo nella scelerata svendita del nostro patrimonio industriale al peggior offerente Ecco il nostro contributo da Roma Siamo appena arrivati a Roma dopo un lungo viaggio da Taranto, siamo partiti ieri sera a mezzanotte e mezzo per affrontare il primo incontro, il primo incontro al Mise per quanto riguarda la vendita dell'Ilva Questa è l'accoglienza che ci hanno dedicato, ci siamo bloccati un attimino per andare avanti perché diciamo che a Roma non ci volevano Noi ci presenteremo al Mise, diremo la nostra perché la nuova azienda, Arcelon Mittal, vuole assumere 10.000 lavoratori su 14.200 e soprattutto ha un piano industriale alquanto discutibile in quanto sono previste dei lavori a completamento dell'interventi AIA entro il 2023 Significa altri sei anni di veleni Oggi siamo qui insieme a lavoratori dell'Ilva, l'occasione del primo incontro con la cordata di Arcelon Mittal sulla vendita dell'Ilva quindi non solo con le delegazioni di quattro pulma che da Taranto a difendere proprio questo lavoro ma siamo presenti anche come organizzazione a livello nazionale e anche con una rappresentanza di lavoratori della Piaggio e di lavoratori dell'Alitalia perché queste vertenze si somigliano tutte, rappresentano il fallimento delle privatizzazioni rappresentano il fallimento delle politiche industriali, la desertificazione sia della salute che dell'occupazione quindi noi teniamo, siamo sereni nella delegazione di Sanità Sur rappresenterà la nostra posizione che è la posizione che la nazionalizzazione, l'intervento dello Stato sia l'unica opzione per garantire da una parte la salute ai lavoratori e ai cittadini di Taranto che mi sembra una delle cose più importanti, l'occupazione e la tutela dei salari altrimenti assisteremo a un'alta depredazione di un asset industriale da parte di chi come sappiamo già produce a sufficienza e non ha interesse a investire nello stabilimento di Taranto Noi oggi siamo qui perché c'è il primo incontro con Arcelon Mittal L'azienda è il gruppo veramente che il Ministero dello Sviluppo Economico, cioè il governo ha individuato come possibile acquirente o affittuario dell'ILVA Il piano di cui siamo finora a conoscenza e che oggi dovrebbe essere più esplicitato di Arcelon Mittal ci preoccupa moltissimo ci preoccupa moltissimo perché non vediamo in questo piano un vero, vero, vero piano di sviluppo né dal punto di vista occupazionale, anzi si prospettano già 4.000 esuberi e noi non le accettiamo anche dal punto di vista ambientale, teniamo conto che noi dal 2010 stiamo aspettando il risanamento almeno che inizi il risanamento dell'ILVA ambientale e non c'è stata neanche la copertura dei parchi minerari quindi noi siamo molto molto preoccupati, siamo preoccupati perché in questo momento vediamo che il governo sta dismettendo tutti i maggiori asset industriali, asset strategici per il paese la siderurgia, la mobilità con l'ILVA, i trasporti, ma non sono solo trasporti diciamo così sono elementi di sviluppo del paese, allora il fatto che si vendano a imprese straniere come tante altre noi assistiamo al fatto che in questi ultimi anni e anche in questi ultimi mesi c'è una campagna acquisto da parte di gruppi stranieri di imprese strategiche italiane, noi non siamo certamente xenofobi ma la cosa ci preoccupa moltissimo, ci preoccupa perché si affermano ancora di più economie che in Europa sembrano farla da padroni, Germania Francia, questa cosa non ci sta bene perché vediamo che lo sviluppo industriale di questo paese non sta evidentemente a cuore del governo ci sono sia nel caso dell'ILVA sia nel caso anche di Alitalia, ma già ne avrà parlato il mio compagno prima possibilità di intervento e poi veramente ci grida vendetta il fatto che le banche per le banche si stanziano migliaia di miliardi e invece per i lavoratori il governo non intende mettere risorse allora vogliamo capire se gli aiuti di Stato non vanno bene per l'ILVA, per la nazionalizzazione dell'ILVA e quindi anche dell'Alitalia perché invece questi aiuti di Stato vanno bene per le banche su questo proprio sono misure che gridano vendetta, noi vogliamo salvaguardare l'occupazione ma insieme alla salvaguardia dell'ambiente perché non è possibile che continuiamo ad assistere a Taranto, a Talsano, a Tamburi all'avvelenamento della gente, veramente di intere popolazioni per favorire il profitto la gestione precedente dei RIVA è stata assolutamente deleteria, hanno accumulato prefitti che poi si sono portati all'estero li hanno giocati come parso a loro lasciando l'ILVA nel marasma più totale ecco noi a questo diciamo basta e chiediamo alla nazionalizzazione e chiediamo al governo di non permettere che vengono ancora addossati alla collettività esuberi che non troveranno poi occupazione una volta finiti gli ammortizzatori sociali Siamo qui davanti al Ministero Sviluppo Economico, anche se sembra un eufemismo chiamarlo sviluppo economico per denunciare la politica del governo, cioè la politica del governo che dà soldi alle banche, la politica del governo che privatizza la politica del governo che anziché salvaguardare il patrimonio industriale chiama i privati vendendo o regalando imprese che sono strategiche dal punto di vista della produzione industriale per un paese come l'Italia che è ancora uno dei paesi al mondo i più grandi per produzioni manufatturiere e siamo qui per denunciare tutto questo e per dire che noi non vogliamo la soluzione Piombino non vogliamo e non saremo spettatori passivi di un percorso che va a chiudere progressivamente lo stabilimento a non risolvere i problemi legati al risanamento ambientale e all'inquinamento, addirittura a tagliare le retribuzioni come è accaduto a Piombino e per questo abbiamo chiamato anche i lavoratori dell'Italia e di altre imprese perché crediamo che al di là delle differenze che ci sono delle imprese c'è un tratto che li unisce, cioè le politiche del governo chiediamo un nuovo intervento pubblico in economia, cioè che lo Stato diventi nuovo proprietario dell'acciaio e produca l'acciaio come in tanti paesi avviene, si può fare, non è vero che ci sono regole che le impediscono e se ci fossero bisogna entrare in conflitto con l'Unione Europea perché salvare la produzione dell'acciaio in Italia è decisivo Siamo venuti tutti fino a qua Siamo venuti tutti così La gente può sapere chi noi siamo E non le lo diciamo chi noi siamo Siamo l'armata USB E il mondo si genererà Noi saremo sempre qua E che l'USB è forte vincerà Io oggi sono qua da Trieste perché ritengo che la vicenda dell'acquisizione dell'IVA da parte di Mittal Guardi ovviamente a quelli che sono gli aspetti della strategia industriale di questo governo, di questo paese Che si sta dando sulla siderurgia Sono qua anche perché porto la mia vicinanza da Trieste A Trieste abbiamo la ferriera che è chiamata appunto l'altra ILVA Che vive i stessi problemi I stessi problemi riguardanti anche gli aspetti ambientali e gli aspetti industriali Quello che per me è importante è che si faccia una discussione che affronti i temi non solo industriali ma anche occupazionali Perché non è accettabile, non è più accettabile che questo paese sostenga accordate ed aziende Che vengono al nostro paese e pretendono licenziamenti, non investono un euro, ricevono soldi pubblici Dobbiamo iniziare a dire che aziende strategiche del nostro territorio nazionale vanno nazionalizzate Affinché si salvaguardi appunto la tenuta industriale stessa del nostro paese, la strategia industriale della siderurgia E questo è uno dei motivi per cui sono qui oggi Siamo qui venuti a Roma per rivendicare i nostri diritti E soprattutto la vertenza ILVA che è ormai agli sgoccioli E siamo qui tutti riuniti per rivendicare appunto questo diritto al lavoro E in più oggi con la riunione che c'è su Almise Manderemo su una delegazione per appunto cercare di arrivare ad una situazione utile e sana Soprattutto per i lavoratori e per la città di Taranto I debiti, i soldi dello Stato, i licenziamenti, la mancanza di futuro Lì si spendono miliardi per licenziare E poi c'è la più comprensione che è come si dice il cuore del carciopo Che viene preso dal privato, finanziato a sua volta Oggi qui siamo a Roma, siamo arrivati al Mise Stiamo aspettando il nostro destino Dopo tanti anni di sopprusi, prima con l'ambiente svenduto E dopo con questa vendita al privato Che sicuramente non farà i nostri interessi Noi siamo stanchi di pagare i danni che fanno gli altri Cioè noi che siamo la parte lesa come operai e come cittadini della città di Taranto Dobbiamo ogni giorno subire sia dal punto di vista dell'inquinamento Che dal punto di vista lavorativo Noi siamo qui per chiedere zero licenziamenti E più salute e più ambientalizzazione per l'Ilva di Taranto E per tutti i cittadini di Taranto Allora oggi siamo al Mise, al Ministero dello Sviluppo Economico Che ha convocato le organizzazioni sindacali Compresa l'USB per iniziare a discutere del piano di svendita dell'Ilva di Taranto Per noi è una svendita È un piano che non risolve i problemi né dei lavoratori Né della bonifica di Taranto, del sito di Taranto E neanche delle altre situazioni dell'Ilva È una svendita vera e propria Vengono regalati la produzione di acciaio L'unica in tutta Italia Vengono regalata e svenduta Ad un gruppo che non Dalla sua parte non ha mai manifestato Nessuna volontà di rimanere sul territorio E di produrre realmente sul territorio Noi proponiamo un'alternativa a tutto questo L'USB propone la nazionalizzazione L'unico soggetto che oggi può salvaguardare i posti di lavoro E allo stesso tempo pensare alla ambientalizzazione del sito di Taranto È lo Stato Questa è l'unica realtà E noi crediamo che questa sia l'unica soluzione Da mettere in campo E reale per Taranto I tarantini e i lavoratori dell'Ilva Beh qui noi oggi ci troviamo Al Ministero dello Sviluppo Economico È in corso un incontro con la nuova proprietà Insomma quella a cui il governo vorrebbe affidare La proprietà dell'Ilva Noi siamo venuti invece con unione sindacale di base Con una grande delegazione Dei lavoratori dell'Ilva di Taranto Per dire che invece noi non siamo assolutamente d'accordo Su questo impianto Sul fatto che l'Ilva possa essere svenduta A un'altra cordata Riteniamo che gli errori che sono stati commessi con l'Ilva Non possano essere commessi di nuovo Taranto, la città di Taranto I lavoratori dell'Ilva meritano di meglio Siamo venuti qui per sostenere con forza La possibilità, a nostro avviso reale Che con gli stessi soldi che spenderebbe lo Stato Si può rinazionalizzare l'Ilva Tornando a far diventare un patrimonio pubblico Perché riteniamo che la questione dell'acciaio E quindi tutta la filiera dell'acciaio Sia un interesse strategico del nostro Paese Non possiamo continuare a regalare imprese A chiunque passi per la strada Come invece sta accadendo Come ha fatto questo governo e i governi precedenti L'Italia è l'unico Paese europeo Che non ha una politica industriale E soprattutto che non difende I propri asset strategici L'Ilva all'interno di questo Secondo noi rappresenta esattamente questo Per di più il piano che ci è stato presentato Che oggi presenteranno Prevede migliaia e migliaia di licenziamenti E soprattutto che tutti i costi Probabilmente di risanamento ambientale Dell'Ilva e quant'altro Saranno a carico dello Stato Non capiamo Non capiamo perché Se miliardi di Euro non devono essere spesi Per risanare la città di Taranto Per garantire ai lavoratori dell'Ilva La cassa integrazione Le mobilità e tutte queste robe E qui per quale motivo Con i stessi soldi Non si possa nazionalizzare questa azienda Risanarla e rilanciarla Così come è stata nella grande tradizione Dell'Ilva di Taranto Pensiamo che sia una scelta accelerata Del governo Siamo venuti qui per dirgli esattamente questo Che non siamo d'accordo Alla svendita dell'Ilva Che pretendiamo un piano industriale vero Da parte del governo Che prevede appunto La rinazionalizzazione dell'Ilva È possibile farlo Gli altri paesi d'Europa difendono Strenuamente Con le lunghe e con i denti Tutte le proprie imprese nazionali Quelle strategiche L'Italia non lo fa Noi crediamo Sia giunto il momento Di invertire la tendenza Ricominciare a difendere I nostri pezzi industriali I pezzi pregiati Che l'Italia ha Difenderli fino in fondo E l'unico strumento Che noi conosciamo Che rende possibile questa cosa È appunto L'intervento diretto dello Stato Nelle proprietà E quindi la nazionalizzazione Oggi siamo qui Con i lavoratori dell'Ilva I lavoratori dell'Italia Di altre aziende in crisi Per lottare Per la difesa Dei posti di lavoro E affinché Le aziende strategiche Di questo paese Vengano nazionalizzate Noi riteniamo Che sia un patrimonio Da difendere Quello delle imprese strategiche E il patrimonio Dei lavoratori Che lavorano Dentro queste aziende È inaccettabile Che si continui In questa deriva In cui si perdono Posti di lavoro In cui si perde Anche le condizioni Di lavoro E la sicurezza Quindi siamo qua Perché vogliamo rivendicare I diritti dei lavoratori E le condizioni Che devono essere tutelate Ci sono i lavoratori Dell'Alitalia Che hanno detto Un secco no Ad un piano Lacrime e sangue Che li voleva Sempre più schiavi In una condizione Di prospettive Deboli Per il loro futuro E hanno rigettato Al mittente Questa condizione Oggi sono In uno stato Di commissariamento E lottano Per il loro posto Di lavoro E per il futuro Della loro azienda Ci sono i lavoratori Dell'Ilva Che sono qui Per rivendicare La loro azienda La tenuta Della loro azienda E che l'azienda Sia nazionalizzata Quindi noi riteniamo Che questo sia Una lotta Una battaglia comune Perché rivendicare Il diritto A aziende pubbliche Vuol dire rivendicare Il diritto Anche ad una prospettiva Industriale Del nostro paese Siamo qua E non molleremo La nostra battaglia Siamo qui a Roma In questa giornata Importante Per i compagni Dell'Ilva E tutti i ragazzi Dell'USB Perché stanno combattendo Una battaglia Contro licenziamenti Di una fabbrica Strategica Per l'Italia Antena Io credo che Siamo qui Perché Ilva All'Italia Sia la lotta Di tutti i lavoratori Italiani Perché noi veniamo Da una regione Dove un'acciaieria Come l'Ilva La Lucchini Hanno fatto Il solito accordo Dopo un piano Industriale promesso Firmato dai sindacati gialli Fiume, Fiume e Wilm Dopo anni Sono sempre Senza lavoro E stanno cercando Di combattere Anche loro Però la fabbrica In questo momento È messa male Io credo che La battaglia Qui dei ragazzi Dell'Ilva Di Rizzo Di tutti i ragazzi Sia la battaglia Di tutti Perché In Italia Non possiamo più Perdere posti di lavoro L'Ilva Taranto Dopo I Troiai Tutti I fratelli Riva L'inquinamento Dell'intera città I licenziamenti Non possiamo più Accertarli Quindi Bisogna rispingerli E portare a zero Licenziamenti Questa Battaglia Che è la battaglia Di tutti E della battaglia Dell'Unione Sindacale Di base Perché se toccano uno Toccano tutti Appena finito l'incontro Con la nuova proprietà Di Ilva ArcelorMittal Non solo Non siamo stati Rassicurati E non ci sono Novità di rilievo Anzi È tutto confermato Nei 4200 esuberi Perché da 14.002 Si passa a 10.000 Lavoratori Nell'incertezza Degli investimenti Sul terreno produttivo E a col punto Inderogativo enorme Di quelli che riguardano L'ambiente E la salute Dei lavoratori Di cittadini di Taranto C'è stato fatto un quadro Statico e civile Non ci si può Non si può rispondere alla domanda Vogliamo vedere i documenti Non possiamo farlo Perché abbiamo garantito La segretazione degli stessi Così come è chiaro E gliel'abbiamo fatto notare A mittaglia Dire Assumo 10.000 persone Ma Allo stesso momento Dire Che poi devo entrare All'interno dello salvamento A verificare zona per zona La domanda che ci poniamo È come fai a dire Ne assumo 10.000 Se non conosci Come dire Tutto il meccanismo interno Io dico Che dobbiamo partire Da noi stessi Oggi abbiamo acquisito Delle informazioni Ci hanno detto chiaramente Che C'è stata Una battuta Dall'amministratore delegato Una battuta C'è stata l'affermazione Che ha detto Testualmente Non voglio che si parli Di 4.200 lavoratori in meno Voglio che si parli Di 10.000 O si erano salvati Da mittaglia Quindi questo è il loro schema Che non è il nostro schema Io lo dico chiaramente L'abbiamo detto Dal primo giorno E lo diremo fino alla fine Per noi O tutti Compreso l'indotto O nessuno Non c'è Nessuno Nessuno Che deve pagare I danni Che ha prodotto Perché noi siamo Quelli che hanno subito In termini di ambiente In termini di malattie In termini di salute Ve lo sapete Stiamo subendo Troppe volte Come dire Non ci siamo detti In questi anni Abbiamo subito Gli effetti della crisi Non è un caso Che decine e decine Di ragazzi Della nostra età Stanno accettando Quei 4 soldi Per andare via Perché si sono indebitati Perché negli anni Non ce la facevano Manca a pagare Noi vogliamo ripartire da questo Per noi I principi I concetti Sono semplici Sugli investimenti A Mittal Abbiamo fatto notare Che ci sono una serie Di contraddizioni Enormi Anche qua Tutto quello che dicono Lo dicono tramite le slide 20 milioni là 30 milioni là Faccio un esempio Giusto per Le acerie Che stanno cadendo a pezzi Sono previste solamente Investimenti Sulla CCO 3 e 4 Non ci sono investimenti Sulle acerie Sui forni Sulle caldaie di acerie Vissibili E questo ci fa Come dire Veramente venire il dubbio Che l'obiettivo sia Quello di prendere la cinghia E di farla morire Piano e piano Quindi Di creare Poi un elemento Dobbiamo evitare Che dobbiamo contrastare La divisione Praticuzione Non lo dobbiamo permettere Perché se passa la logica Dell'accompagnamento Da parte del governo Col sistema Della bed company Io credo che ne usciamo Tutti con le ossa rotte Da questo meccanismo Poi abbiamo i compagni Dell'Italia Che sono venuti oggi A dare la solidarietà Ai lavoratori dell'ILVA Ed è chiaro Che loro sono La testimonianza Di come sono riusciti Come dire A dirirci Noi non ce lo possiamo permettere Dobbiamo immediatamente Fare qualcosa Però anche qua Voi sapete quanto è difficile Noi abbiamo fatto Delle assemblee Abbiamo proposto Di venire a Roma Sapete Tutto quello che Vuota attorno Al meccanismo Dell'ILVA-Taranto Le cose che dobbiamo fare Con i piedi per terra Però noi Una reazione L'avremo Sarà durissima Io non dico Noi non dobbiamo fare Alla fine Lo Stato Dica Chiudete le finestre E non fanno uscire Quindi l'obiettivo è Respondere Permanente Vengono proposto E ottenere Quelli che sono S'avaguarda Dell'ambiente Della salute E l'occupazione Di tutti i dipendenti Ilva e dell'indotto Grazie Un polifemo ricchissimo Prima lo speciale La responsabilità Della memoria Insieme contro la mafia E poi lo speciale Relativo alla protesta Dell'USB A Roma L'appuntamento Per venerdì prossimo Stessa ora Ore 21 Stesso canale Viva la Puglia Channel canale 93 Del digitale terrestre E viva l'Italia Channel Canale 879 Della piattaforma Sky Se Dio lo vorrà Saremo ancora qui con voi Polifemo L'informazione libera Della città Buonasera